Istanbul, Stadio Ataturk, vigilia della finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Qui alle mie spalle il terreno di gioco che ospiterà l'incontro qui domani sera in programma alle ore 22.21 italiane. La squadra di Simoninzaghi è atterrata ieri sera in terra turca, ve l'abbiamo raccontato, proposto con le immagini direttamente all'arrivo all'hotel questo pomeriggio. Tra poco ci sarà proprio Simoninzaghi in questo stadio, in conferenza stampa, a presentare quella che sarà la gara di domani sera accompagnato da tre calciatori. Ovvero Matteo Darmianna, Cancelanoglu e Lautaro Martinez. Dopodiché ci sarà la rifinitura dell'Inter in vista proprio della gara di domani aperta ai giornalisti. Quindi vi racconteremo tutto quello che accadrà su FC Inter 1908 e poi la conferenza stampa di Pep Guardiola accompagnato da Ruben Dias e Kevin De Bruyne. Quindi stiamo per entrare nel vivo, manca sempre meno al calcio d'inizio di quella che è una finale di Champions League in attesa per certi aspetti per l'Inter. Ma che questa squadra ha voluto con tutta se stessa e che vuole giocarsi nel migliore dei modi, senza troppa paura, senza troppo timore di quello che è comunque un pronostico sì sfavorevole ma che non vede spacciata la squadra di Simoninzaghi. Quindi per tutte le parole dei protagonisti vi invitiamo a restare su FC Inter 1908.it perché a breve inizieranno tutte le conferenze qui dalla Taturk.